Vi aspetto il 24 di settembre all'Orto Botanico dell'Università di Torino nel Vivaio che è la nostra area giochi per presentarvi il nostro serious game sui vaccini, Indiana Vax, la scoperta del vaccino perduto è un gioco serio che coinvolgerà tutte le fasce di età, dall'elementare fino ai 99 anni e più è un gioco che si può giocare da soli ma si può giocare anche in gruppo e quindi è un gioco adatto alle famiglie ci serve riuscire in questo momento in cui i vaccini sono sottoposti spesso a dei falsi miti a fornire le corrette informazioni scientifiche alla popolazione e queste informazioni devono essere secondo noi fornite in una maniera semplice la ludicizzazione permette ai più piccoli ma anche ai più grandi di apprendere concetti complessi attraverso il gioco un gioco che chiaramente essendo esperienziale gli permetterà anche di mantenere nel tempo queste conoscenze acquisite e magari trasmetterle ad altre persone dopo che hanno potuto giocare con noi il gioco ha varie sfaccettature, varie storie, non è legato semplicemente ai vaccini del Covid contro il Covid di cui adesso tanto stiamo sentendo parlare ma ha tanti altri tipi di vaccinazioni perché il vaccino è un'arma potentissima che abbiamo contro tante malattie il morbillo ad esempio oppure il pneumococco di cui poco magari si sente parlare ma che ancora adesso fa tante vittime per cui vi prego venite a giocare con noi, sarà divertente e speriamo di poter giocare tutti insieme e migliorare le vostre conoscenze sui vaccini Grazie a tutti Grazie a tutti